Buonasera e benvenuti a tutti a questo nostro incontro. È inutile sottolineare l'importanza del tema che questa sera verrà trattato, un tema che è importante da un punto di vista economico, sociale, politico, finanziario. Il confronto tra le istituzioni pubbliche e le imprese private nella collaborazione che debbono stabilire tra di loro. Abbiamo chiamato i protagonisti di questo mondo delle istituzioni e del privato e li mettiamo confronto tra di loro. Questa sera Valerio Baroncini, che è il vice direttore del resto di Carlino, presenterà questa serata i relatori e il tema che dovremo affrontare assieme. Grazie di nuovo per la vostra presenza qui e diamo la voce a Valerio intanto. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti e buonasera. Intanto vi presento chi animerà di fatto questa serata. La mia destra è Valentina Marchesini, che è presidente della Fondazione Marchesini. Dovete applaudirla, se no non funziona. Paolo Bordon, che è il direttore generale dell'Ausl di Bologna. Il tema è tra welfare e charity, come sapete, e il rapporto tra pubblico e privato. E nel titolo della serata che Maria e padre Giovanni hanno presentato, si parla di quali sono i confini. Allora, quando si parlava di confini, ho pensato a un'intervista che ho fatto a un premio Nobel che si chiama Martia Sen, che molti di voi conosceranno, che è un economista, ma si è occupato molto anche di sanità. Lui è indiano e raccontava che i confini geografici non si vedono. Tu passi a volte da un posto all'altro e non ti accorgi che c'è un confine. Il confine è uno stato della mente, tante volte. Dove invece i confini si vedono? E dove cambiano, ad esempio, i sistemi sanitari e i sistemi di welfare. E lui mi raccontava l'esempio del Kerala, che molti di voi conosceranno, penso perché chi si occupa di sanità è un esempio che ha sentito negli anni, dove di fatto c'è un sistema che è per certi versi simile a quello italiano e che, come potete immaginare, è molto diverso da quello invece di altri stati dell'India. E raccontava che proprio nel Kerala il pubblico è presente in maniera molto forte, c'è un sistema sanitario di fatto a trazione pubblica totale, ma c'è anche un sistema privato che funziona bene soprattutto sul tema delle assicurazioni. E questo garantisce alla popolazione, ad esempio, grazie all'intervento anche di aziende che danno aiuti, o di lotterie nazionali che danno aiuti proprio per il tema delle assicurazioni, di riuscire a integrare il sistema, creando un confine straordinario tra quello stato, ad esempio lo stato confinante a nord, dove invece non ci sono tutte le pericittadini. Allora, con Valentina Marchesini, che di privato di fatto si occupa, ma anche di pubblico, perché di fatto interagisce con molte istituzioni, volevo chiedere quali sono i confini tra fare welfare e fare invece assistenza, assistenzialismo, che è una parola che spesso usiamo, e il rapporto con il pubblico com'è? Cioè il pubblico si rivolge a voi perché diciamo su tante cose si adagia e voi diventate uno strumento quasi necessario in un quadro di tagli, tante volte centrali, sempre più pesanti, o invece siete un di più che può permettere di dare una spinta propulsiva su determinati temi? Prego. È acceso? Sì. Allora, buonasera. Allora, intanto vorrei dire che questo tema mi sta molto a cuore e il desiderio è proprio quello di confrontarmi stasera, perché vi porto la mia esperienza, no? Su diversi temi che riguardano il welfare e dove il welfare che fa un'azienda e poi la charity che fino a due anni fa, di cui si occupava la mia azienda, che adesso ha girato alla fondazione, dove deve arrivare uno e cominciare l'altro. Quando io ho iniziato a lavorare 19 anni fa, e mi ricordo che era forte il tema delle scuole per l'infanzia, e si parlava tanto di questo e c'era un dibattito alle volte anche aspro, no? Dove si diceva, ma le aziende che fanno gli asili vanno bene, non vanno bene, sono bravi, fanno bene, non fanno bene. Qual è la soluzione che ho provato a mettere in campo io? Questo per darvi l'immagine che ho di questa cosa io. Ho scelto di non fare un asilo aziendale e rivendico ancora oggi questa scelta. Oggi il pensare comune su questo tema è cambiato moltissimo. Oggi un'azienda che fa l'asilo, bravi bravi che fanno l'asilo, no? Un tempo non era così, vent'anni fa non era così. Io ho scelto di collaborare con, in questo caso, il comune dove risiede l'headquarter della mia azienda e dire fatto che tutti i bambini che ne hanno fatto richiesta hanno il loro posto, riesci a mettermi dei posti in più? li pago io. Ecco, credo che questo sia un esempio di un confine gestito bene. C'è il pubblico che fa il suo mestiere, quello in più ce lo metto io. Perfetto. Mi sono successe però delle cose in questi anni che mi hanno portato a chiedermi fin dove devo spingermi io come privato. Perché la sensazione è un po' proprio quella che delle volte il pubblico si adagi. Se il giardino della scuola è distrutto, io non lo metto a posto. Io non trovo giusto che il privato debba metterlo a posto. Perché il privato, in questo caso la mia azienda, i miei collaboratori pagano le tasse. Se però in quel cortile della scuola ci vogliamo fare, che ne so, dico la prima cosa che mi viene in mente, un'attività per insegnare il comportamento delle api ai bimbi, lo pago io. Questo lo faccio io. Allo stesso modo, e faccio un esempio legato al vostro mondo, alla sanità, non credo, ma mi smentirete forse, di dover essere io come privato a dover pagare dei letti in un ospedale. Perché mi aspetto che lo faccia l'istituzione. Se poi in quel reparto vogliamo fare uno studio, che ne so, di dipingere le pareti per renderla, perfetto, lo pago io. Non c'è nessun problema. Ecco, io credo che perché la cosa funzioni e non ci siano cose che nel mondo della charity, anche delle aziende, succede troppo spesso queste donazioni a pioggia. 1000 euro a questo, 500 euro a questo. Non servono a niente. Servono a molto, molto, molto poco. Se invece facciamo un patto nuovo tra privato e pubblico, dove il pubblico si prende a cura di fare quello che deve, non di più. Il di più lo facciamo noi. E quindi faccio una critica anche alla mia categoria, dove noi diciamo sempre di restituire al territorio. Ma anche la restituzione deve avere un senso. Il restituire i 1000 euro, i 500 euro, i 2000 euro, non fanno bene a nessuno, non portano avanti seriamente delle iniziative e secondo me non fanno neanche essere a posto con la restituzione le aziende. Capisco che il tema sia ampio, però la mia esperienza è questa, sto cercando una risposta anche a come possiamo gestire meglio le cose. Forse anche mettendoci insieme. Non vi nascondo che quando abbiamo deciso di creare la fondazione Marchesini, a noi non interessava creare una fondazione che portasse il nostro nome. Lo scopo non era quello, non avevamo bisogno di fare, e non abbiamo bisogno di farci pubblicità. Non era questo lo scopo. Lo scopo era professionalizzare delle attività di restituzione al territorio che l'azienda ha sempre fatto. E mi sono detta, noi ci possiamo mettere una certa cifra, che è pur una cifra importante, ma non è, non vi immaginate niente di che. Se ci mettessimo tutti insieme, quanto riusciremmo a mettere insieme e veramente a fare qualcosa di importante. Ecco, in questo mi sento un pochino sola. Grazie. Dopo nel secondo giro torneremo proprio su questo. Valentina ha la rara dote, tra l'altro, di andare veramente dritta al punto. Per cui, Paolo Bordon, Valentina Marchesini, sono delle cose che sono particolarmente interessanti, insomma, e vi ha sollecitati, anche probabilmente sul tipo di richieste che si fanno alle fondazioni private. È questo momento particolarmente complicato per il mondo della sanità. Abbiamo visto tutte le discussioni sul tema dei bilanci, lo spettro anche di possibili commissariamenti, le polemiche con il Governo centrale, che probabilmente potrebbe fare di più, ma anche il Governo precedente, mi sento di dire, che non è che vi abbia dato tanto, ad esempio, sul tema dei fondi Covid. Quindi, qual è lo stato dell'arte dell'Aus di Bologna in relazione ai fondi e in relazione ai privati, che cosa si può fare? Beh, intanto, buonasera a tutti. Grazie per l'invito, per l'occasione di parlare davanti a una platea così qualificata, di temi così importanti. Allora, naturalmente, se contestualizziamo dove siamo, Bologna, io ho il privilegio di essere direttore di un'azienda tra le più prestigiosi d'Italia, e questi ragionamenti che condivido con voi sono molto differenti, se le facessimo in qualche altra località non molto distante da qui. Perché dico questo? Perché qui è uno degli esempi di sanità pubblica, su cui la società, la comunità ha investito da decenni, da moltissimo tempo, da quando esiste il Servizio Sanitario Nazionale, che è nato nel 78, poi nel 92 è stato riformato col cosiddetto processo di aziendalizzazione e siamo arrivati sostanzialmente a giorni nostri. Quindi una comunità che crede, ha creduto, che la sanità pubblica fosse un valore che si fonda nella Costituzione, l'articolo 32 e successive norme. Ecco, dico questo perché è una premessa importante rispetto ad altri contesti e altri colleghi. Ora, avere una regia forte della sanità pubblica, io gioco nella squadra della sanità pubblica, ma non lo dico solo perché gioco da questa parte, dall'altra ci sono chi lavora nel privato, ma lo dico perché ci credo, nel senso che la regia di un sistema così complesso che interseca, come si diceva, la difficoltà di delineare confini, che forse non hanno neanche senso. Chi si occupa di sanità, al di là della prestazione tecnica che magari eroghiamo nei nostri ospedali, e anche i nostri specialisti, quando ci spostiamo sul territorio, ma a volte anche dentro i reparti ospedalieri, andiamo a intaccare dei mondi che a volte sono vicini alla sanità, hanno dei confini, hanno dei colori più sfumati, diventano sociali, diventano molto altri. Allora, chi fa un mestiere come il nostro, deve avere a che fare, deve rendersi conto, che non è amministrare solo una montagna di risorse importanti. L'azienda US di Bologna ha un budget che supera i 2 miliardi di euro, ha quasi 10.000 dipendenti diretti, altri 2-3.000 in convenzione, quindi sono numeri impressionanti da un punto di vista generale. ma è il tema della responsabilità dei valori che noi conduciamo, che ci portiamo avanti, nel senso che noi addosso abbiamo degli obiettivi che la Regione ci dà, ovvio la compatibilità delle risorse, questo è tipico di ogni sistema, le risorse non sono mai sufficienti per quello che vorremmo fare tutte, quindi dobbiamo operare delle scelte. Abbiamo dei riferimenti, che sono i livelli essenziali di assistenza, che sono una sorta di benchmark tra i modelli di riferimento, e credo, certo non per merito mio, ma per la generazione di direttori generali, di amministratori locali, che hanno investito la comunità su questo sistema, che le performance del sistema sanitario dell'Emilia Romagna, sia riconosciuto da terzi, come tra le migliori. Si può fare di più? Si può fare meglio? Certo, come in tutti i sistemi. In sanità, come in altri, l'innovazione fa sì che quello che oggi è un modello di riferimento, domani può essere adattato. Quindi, anche la responsabilità di condurre dei sistemi sanitari pubblici, significa investire nel cambiamento organizzativo, significa spiegare alla gente che quello che oggi è un mio riferimento, doppio scontato che così è, e deve essere, magari è un modello superato, e quindi ci sono delle innovazioni che vanno secondate. Allora, in questo contesto, anche la collaborazione con chi è parte attiva della comunità, sentire Valentina, che dice del loro impegno come azienda, che hanno, nessuno gliel'ha prescritto, non gliel'ha mica detto il medico, che dovevano fare una fondazione, l'hanno sentito come un valore sociale. Questo è molto bello. Io sono friulano, vengo da una terra, Udine, che ha ricevuto molto in tempi difficili, c'è stato il terremoto nel 1976, dalla solidarietà, ed è molto presente, come è molto presente in questo contesto. Ho lavorato nella mia regione, ho lavorato, prima di venire qua, ormai sono a Bologna, da tre anni, in Trentino Alto Adige, in contesti dove c'è una forte regia di sanità pubblica, c'è una collaborazione col privato, poi vediamo anche del perché è molto utile lavorare insieme al privato, ma ci sono dei valori fondanti di comunità che sono un patrimonio veramente difficile da spiegare in sé. Ecco, allora, la sensibilità di aziende, di imprenditori, sono per noi molto importanti, al di là del contributo in termini di donazione economica, che chiaramente fa sempre piacere. Però capite che al tema della sostenibilità di un'azienda come la nostra, che ha bisogno di due miliardi di euro per far funzionare l'ordinario, se arriva anche una donazione importante di qualche milione, non è che sposta il senso del nostro equilibrio. Quello che sposta è la partnership, cioè sposare dei progetti assieme, al di là del contributo, e dire la direzione di marcia che noi vogliamo intraprendere tra azienda pubblica, privato che insiste nel territorio è questa, e noi ti chiediamo di aiutarci a condividere queste logiche. Secondo me questo è un po' il tema, quello della collaborazione con chi si occupa del terzo settore, di darci una mano in questo sistema, è molto importante. Io lo trovo un sostegno anche nei confronti dei nostri clinici, dei nostri collaboratori, che è un valore aggiunto che non si traduce solo in un bonifico. Cioè molto spesso chi è impegnato in questi progetti non sa neanche quanto riceviamo in termini di contributo, ma vede il supporto, lavorare a fianco. Noi spassiamo, abbiamo trascorso tre anni molto complessi. Io non è un vanto, ma sono stato direttore generale nella prima ondata, ero a Trento, e ho dovuto occuparmi delle ondate successive a Bologna. Quindi ho una certa esperienza fatta sul campo nella gestione della pandemia. come i miei colleghi, ovviamente, come tutti voi, fatto volentieri a meno. Però ho registrato, e questo lo considero un'esperienza che sono contento di avere vissuto come persona, il fatto di una vicinanza incredibile delle persone fisiche a un mondo che non pensavo esistesse. nella fase in cui è nata e si è scoperta questa tragedia del Covid, dell'impatto travolgente che ha avuto sui nostri sistemi, la solidarietà, la vicinanza della gente è stata un'arma vincente, della benzina vera per resistere in quei momenti difficili. Lo è stato a Trento per me, lo è stato assolutamente a Bologna. e percepire e arrivare in ufficio la mattina che c'erano tantissime chiamate, mail di persone, di aziende che dicono cosa possiamo fare, come possiamo darvi una mano, è stato veramente prezioso perché l'aiuto, c'è stato anche materiale importante, ma è la condivisione di una situazione che va approcciata. Ecco, in questo contesto, in questo, chiamiamolo, laboratorio cittadino di area metropolitana, si possono fare molte cose e ho il privilegio che l'esempio di Valentina Marchesini per fortuna non è un esempio solo loro, ci sono molte altre realtà che sono partner dei nostri progetti sanitari e che io ho il piacere di rappresentare delle nostre idee, dei nostri progetti di sviluppo e loro spontaneamente si affiancono a noi, dire se serve, e noi diamo quel valore aggiunto per accelerare magari un liter. E' chiaro che, come si diceva prima, stiamo vivendo una stagione dei nostri bilanci della sanità pubblica, non solo in Emilia Romagna, molto complicata, molto stressata. Cioè, quando abbiamo dovuto gestire l'emergenza Covid, il primo problema non è stato capire se le scelte che facevamo avevano un impatto è una conseguenza economica. Devo dire la verità, non abbiamo fatto questa valutazione. Cioè, la prima risposta che dovevamo dare era salvare la vita alla gente con una pandemia che non si conosceva, no? Perché noi ci siamo trovati spiazzati rispetto a una cosa che vedevamo alla televisione che succedeva in Cina. avevamo capito secondo le linee guida che dovevamo monitorare i cinesi che rientravano dal Capodanno cinese, ma per quanto riguarda la mia esperienza a Trentina noi avevamo il Covid sulle piste da sci che erano i turisti lombardi, che erano a Madonna di Campiglio e ho cominciato a vedere da lì che il mondo che vedevo la tv ce l'avevamo in casa. A Bologna ha colpito forte la seconda ondata più che la prima, no? Quindi queste situazioni hanno fatto sì che si stringesse vicino al nucleo della sanità pubblica una collaborazione importante e arrivo anche al privato perché il privato accreditato, il privato nella nostra sanità in un sistema come quello di Bologna dove nella sanità pubblica c'è il DNA cioè comunque la regia noi abbiamo un'offerta di posti letto per acuti pubblici di circa 3.000 nell'area metropolitana di Bologna tra i nostri e quelli del Sant'Orso e del Rizzoli di Imuna questo fa più o meno 3.000 posti letto e abbiamo più di 1.000 posti letto 1.2003 di privato accreditato che sono aziende private ospedali di dimensioni diverse che appartengono a gruppi diversi. Insieme sotto una regia comunque pubblica c'è una forza si diceva io fin da piccolo l'unione fa la forza è proprio vero è proprio vero ed è stato dimostrato anche durante la pandemia quando durante la seconda ondata noi abbiamo avuto bisogno della collaborazione del privato accreditato questa c'è stata è stata messa a disposizione spontaneamente perché noi comunque abbiamo dovuto gestire e garantire slot sale operatorie legate all'emergenza urgenza legate alla grande traumatologia agli incidenti stradali a quelle operazioni non rinviabili poi molto altro è stato rinviato necessariamente perché avevamo il 90% delle nostre forze impiegate da ecco che il privato accreditato si è messo a disposizione e insieme noi abbiamo garantito durante la seconda e terza ondata migliaia di posti letto dedicate all'emergenza covid loro ci hanno dato circa 900 posti letto durante queste ondate che sono affiancati ai nostri quindi sono stati un aiuto fondamentale soprattutto per gestire la complessità minore e il terzo settore le fondazioni sono state un altro aiuto importante quelli che ci hanno favorito all'inizio le mascherine i camici tutte queste cose e poi nel supportare in altri progetti quindi in questo contesto va spiegato alle comunità che il valore di comunità ha avuto per noi una una leva un incoraggiamento una vicinanza che non si traduce solo nel bonifici importante che abbiamo ricevuto ma è stata un'alleanza veramente forte stringente che sento ancora oggi molto presente grazie parlavamo della collaborazione fra privato e pubblico questo in un sistema politico soprattutto dove queste due parole privato e pubblico sono usate molte volte come una clava ma se andiamo poi a vedere concretamente quale rapporto ad esempio in Emilia Romagna il privato è un privato che fa soprattutto accreditato insomma quello dicevo un po' proprio più ma vi posso raccontare la mia esperienza perché vedo il professor Marchetti qui in sala io sono andato al maxillo facciale del Sant'Orsola per un problemino in un momento Covid e sono stato operato a Villalba che fa parte del gruppo Villa Maria dove c'erano posti letto del Sant'Orsola questo per parlarvi della collaborazione e quindi al professor Tronconi volevo chiedere come il privato vive questo rapporto col pubblico un rapporto che come ben detto è molto stretto proprio perché ad esempio il suo è uno dei gruppi più importanti a livello nazionale ma avete anche molti posti ad esempio in collaborazione con il pubblico ecco vi sentite parte di un sistema pieno e che cosa si potrebbe fare di più ancora per sviluppare queste sinergie grazie mi associo ai ringraziamenti per l'invito perché sono tematiche di grande attualità e di grande criticità per quanto riguarda la percezione che l'opinione pubblica sul contesto specifico della salute io volevo fare con voi prima una premessa e poi una considerazione cogliendo spunto anche dai relatori che mi hanno preceduto la premessa parte dalla lettura del titolo cioè del rapporto tra ceriti e welfare perché sono come dire due modelli che nel contesto attuale si possono integrare ma non sostituire mi spiego il nostro è un paese lungo e stretto e ciò che c'è di caritatevole di beneficenza di dono purtroppo o meglio per fortuna è un grande dono purtroppo registra e lo diceva il collega una grande disomogeneità sul nostro territorio quindi laddove è presente può talvolta sostituirsi integrarsi migliorare quella che è l'offerta in generale quindi partiamo da questo dato perché abbiamo nella nostra comunità un grande valore che dobbiamo mettere a sistema e cogliere in tutte le sue opportunità partendo però dal presupposto che non può essere richiamato o riferito come uno strumento di riequilibrio o di sostegno in modo omogeneo questo è un aspetto assolutamente non non secondario poi invece la considerazione è questa parto da da un passaggio possiamo darci del tubo che ha fatto Bordone ha detto io appartengo a una squadra un privato appartiene a un'altra squadra ecco a me piacerebbe invece ti dico rivedere questo tipo di lettura nel senso che all'interno del servizio sanitario nazionale che è un grande valore una grande conquista per il nostro paese quando noi lavoriamo per conto e a carico del servizio sanitario siamo la stessa squadra ora il punto è come mettere a sistema e a valore una sinergia di attori che hanno connotati diversi oggettivamente hanno pro e contro ma se imparano dalla programmazione a dialogare in termini strategici prospettici anche alla luce della scarsità di risorse perché signori noi dobbiamo fare i conti con dei dati che sono inequivoci ormai e strutturali allora nella squadra finalizziamo al meglio le risorse pubbliche per garantire il massimo livello di tutela nei cittadini del nostro del nostro paese perché guardate c'è anche il paradosso della lettura opposta siamo comunque attori con densità diversa anche sul fatto di essere interlocutori nel privato è un dibattito recente questo che è emerso l'opinione pubblica è sollecitata per quale aspetto beh perché negli ultimi sette anni sei anni il cosiddetto out of pocket cioè quando i cittadini non accedono al servizio sanitario pubblico perché non trovano una risposta tempestiva innovativa in alcune circostanze si recano in un contesto tra virgolette talvolta un po' fuori controllo che è il richiamo al privato in questo momento la valorizzazione che ha questa voce è mastodontica ha superato i 40 miliardi di euro cioè a fronte di 120 miliardi di fondo sanitario nazionale un altro 20-30% in realtà attinge lo dico brutalmente in forma intermediata in forma diretta dalle tasche di tutti noi in un modo o nell'altro insomma però questo è allora si tratta a mio avviso di fare due cose primo concentrarci bene sul piano di scelte metodologiche spogliate da ogni pregiudizio per cercare di governare al meglio il denaro dei cittadini che pagano le tasse quei 120 miliardi quei 120 miliardi in una fetta abbastanza significativa ma nel complesso non così rilevante è quella che finanzia il sistema della sanità pubblica accreditate e contrattualizzata e che a mio avviso questa è la lettura che diamo noi come gruppo siamo presenti in 11 regioni quindi come dire abbiamo una visione che ci consente di leggere pro e contro di tanti di tanti contesti primo passaggio che io auspico non vi nascondo cerco anche di coltivare è quello di generare un sistema di programmazione di medio lungo periodo seduti allo stesso tavolo ve lo dico in termini banali banalmente per destinare al meglio gli investimenti un male del nostro paese è la ridondanza di investimenti tecnologici sottoutilizzati aggiungo un dato investimenti tecnologici parcellizzati sottoutilizzati dal lato della domanda ma anche dalla capacità di offerta perché l'altra criticità che stiamo condividendo penso è la carenza di figure professionali quindi è imposto il fatto di dover rivedere l'architettura dell'offerta perché così come dire diventa il solito tentativo di difesa strenua di un qualche cosa che nella sua essenza non riesce più ad essere difeso quindi il mio auspicio è quello definiamolo come vogliamo nel termine generico e generale del cosiddetto partenariato ma prima di tutto spogliamoci da pregiudizi e cerchiamo di trovare una condivisione strategica e prospettica in un tavolo comune di programmazione grazie però ripartiamo da Valentina no no rimani qui rimani qui pensiamo a Bologna a com'è cambiato negli ultimi vent'anni il sistema ad esempio delle fondazioni le fondazioni bancarie hanno cambiato volto questo anche perché le banche storiche un pochino se ne sono andate diciamo così sono meno sul territorio se si arrabbierà qualche banca se lo dico ma il succo è questo ed è cambiato anche il tipo di erogazione che viene data questo ad esempio ha spostato negli ultimi anni ad esempio dalla cultura fondi sul sociale perché immagino ci sia un'esigenza sempre più forte il fatto che però in generale a volte le erogazioni siano calate ha fatto sì che perdonami Valentina se lo dico voi siete presi un pochino come dei banco ma te delle volte ecco e quindi il tema è voi presi come dei banco le fondazioni che fanno il possibile per garantire i livelli di prima e tante magari realtà positive perché Bologna ad esempio i nomi non c'è neanche bisogno di farli ma li sapete tutti hanno fondazioni molto forti che come tu dicevi prima forse si potrebbero parlare di più a volte mi sento un po' sola ecco ti chiedo secondo te tutto questo sistema e questo sottobosco che non è anche un sottobosco è proprio un bosco vero e proprio che è veramente forte però si può mettere in relazione cioè come potete dialogare di più anche fra privati prima abbiamo parlato del dialogo fra privato e pubblico ma forse il tema è anche quello di far parlare di più i privati insieme per non fare in tre la stessa cosa ad esempio assolutamente sì credo che sia paradossalmente parcellizzato da un lato il mondo di chi sceglie di erogare e parcellizzatissimo anche il mondo del terzo settore cioè un pullulare noi lo vediamo tutti i giorni riceviamo quattro richieste al giorno almeno da decine di associazioni piccole piccolissime che dicono tanto del territorio dicono di un territorio vivo che crede nell'aiuto agli altri ma in questo modo nascono tanti funghetti piccolini che vanno a riempire questo bosco e dall'altra paia il contraltare è che poi ci sono tante fondazioni fondazioncine che aiutano questi non andiamo da nessuna parte no? quindi io credo che eh ehm io sogno da un certo lato che proprio a riempire questo vuoto che se vuoi le fondazioni bancarie hanno lasciato ci dovrebbe essere un'alleanza forte tra questi privati che ehm erogano e dall'altra parte bisognerebbe lavorare perché il terzo settore non sia più il terzo settore anche il modo di chiamarlo terzo settore è brutto come se fosse terzo settore ormai ha una dignità anche nell'occupazione delle persone nella professionalità delle persone che vengono occupate importantissimo però quello che penso io è che ci vorrebbe una regia che dovrebbe essere l'istituzione nell'uno e nell'altro cioè io mi aspetterei che che ci fosse qualcuno che non possiamo essere non posso essere io no ho provato peraltro ma con scarsi risultati ma a a dire mettiamoci al tavolo mettiamo noi che eroghiamo mettiamo sul tavolo i soldini guardiamo quanti sono dall'altra parte facciamo regia vi racconto questa esperienza piccolissima ma che credo dia un po' il senso di come facendo mettendosi assieme si fanno delle cose belle il tema sono i dopo scuola i fatti nelle nelle parrocchie ce ne sono non immaginate quanti fatti tutti in modo lo definirei artigianale ok perché perché si trovano i volontari le famiglie che hanno necessità perché c'è qui potremmo entrare nel vuoto cosmico no che c'è di questi bambini ragazzini che escono da scuola e sono abbandonati quindi c'è chi ha bisogno di aiuto c'è chi è disponibile ad aiutare ci sono anche degli universitari che studiano e che magari prestano la loro opera a quello ma magari due soldini glieli diamo perché il volontariato se lo fa un pensionato benissimo se lo fa un diciannovenne un ventenne che sta studiando forse sceglierà di andare a lavorare in un bar dove c'è bisogno peraltro però se invece magari troviamo una modalità di dare un rimborso spese ce la possiamo fare ecco noi ci siamo trovati in una situazione dove c'erano delle parrocchie con dei volontari volenterosi che lo volevano fare c'eravamo noi che li volevamo aiutare e però abbiamo detto e come facciamo aiutarli? Bene abbiamo messo insieme delle associazioni di cui una si è resa disponibile a fare la parte burocratica perché c'è questo mondo qui dopo bisogna fare dei CUD bisogna fare delle buste PAD dei rimborsi dei CUD c'è un minimo di lavoro dietro e ci siamo riusciti ecco credo che sia un esempio piccolo ma esportabile che il terzo settore è anche questo dove ci sono dei professionisti magari a fine carriera in pensione che mettono la loro opera di professionisti quello che faceva commercialista quello che faceva l'avvocato quello che lavorava in banca che mettono a servizio anche quello e servirebbero tantissimo ecco in un territorio come il nostro che è un territorio piccolo dove le persone si conoscono bisogna forse culturalmente scavalcare un po' il campanilismo noi siamo un po' ammalati di campanilismo ne è ammalata l'Italia sicuramente l'Occidente lo è motivo per cui l'Europa non funziona come dovrebbe no? ecco forse dobbiamo mettere via un po' di orgoglio personale campanilismo desiderio di apparire per far funzionare queste cose allora sì che con delle alleanze forti dove non abbiamo bisogno di mettere davanti la pubblicità il nostro nome ma quello il risultato che portiamo a casa forse possiamo farcela certo è che c'è bisogno necessariamente che lo capisca l'istituzione mi riferisco alla città metropolitana al comune alla regione a qualcuno che abbia il coraggio perché ci vuole coraggio di fare una regia seria su queste cose perché altrimenti ci mettiamo a fare la fondazione delle fondazioni i notai godono tantissimo perché facciamo un sacco di fondazioni li facciamo lavorare un sacco ma poi non portiamo a casa niente secondo me ecco credo che sia il momento il tempo giusto perché il terreno è molto fertile almeno qui si può fare grazie questo è uno spunto da titolo io penso già al giornale domani no 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 mai Valentina Paolo Bordone abbiamo parlato del ruolo del terzo settore lei gestisce un sacco di ospedali con un sacco di associazioni anche di volontariato che sono dentro che penso che per voi sono diventate molto importanti quindi vi chiedo come gestite questo rapporto prima di tutto e poi la seconda parte della domanda invece che penso riguardi anche il tema delle donazioni e del vostro apporto col privato è sulle tecnologie quindi come è cambiato il vostro lavoro con le nuove tecnologie e come anche le donazioni possono essere capitali in questo senso premesso che è bello avere il problema di avere tante associazioni sono fortunato che sono molte sono attive si tratta poi chiaramente di governare un po' questo tema dando sfogo alle associazioni rispetto alle tematiche di partecipazione chiamiamo la politica sanitaria dell'azienda e ci sono i comitati consultivi misti cioè degli organismi rappresentati elettivi loro che partecipano insieme a noi facciamo degli incontri con la direzione strategica periodici per informarli delle tematiche dei problemi dove dobbiamo andare quindi questo è un primo aspetto l'altro aspetto è quegli centinaia di volontari che ogni giorno si affiancano ai nostri collaboratori noi abbiamo detto abbiamo circa 12.000 tra dipendenti diretti e indiretti ma quanti altri fanno parte del cosiddetto capitale umano della nostra organizzazione che non sono dipendenti ma è gente che o pensionati ex dipendenti dell'azienda o familiari di malati insomma c'è un mondo di associazioni che abbiamo verificato durante la campagna vaccinale straordinariamente attivo e utile quotidianamente quindi questo aspetto è quello interessante che consente di come dire umanizzare certi percorsi molto di più di rendere più vicini e partecipi dei cittadini vi faccio un esempio per scelta dell'azienda rispetto ai PDTI percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per le malattie croniche si mettono insieme i clinici a discutere qual è il percorso migliore possibile facendo il confronto della letteratura sanitaria organizzativa che dobbiamo offrire a un malato ad esempio di diabete noi abbiamo scelto un ruolo attivo anche qui dei rappresentanti delle categorie del malato di quella malattia che partecipano nella costruzione del PDTA in modo che li coinvolgiamo li facciamo sentire parte attiva e ci danno il loro punto di vista che non è banale perché noi vogliamo sentire il punto di vista del paziente di chi del caregiver che ruota intorno a certi malati complessi pensate alla salute mentale cioè la salute mentale non è un problema solo della persona che è il nostro paziente ma è il problema di chi ci ruota attorno della famiglia degli amici cioè è un dramma nel riuscire a gestire o le dipendenze il mondo delle dipendenze è altro settore devastante dove il problema non è solo la persona coinvolta ma è tutto il resto della famiglia quindi la sensibilità di questi temi il cosiddetto terzo settore chiamiamolo il primo settore e sono d'accordo con Valentina è fondamentale poi c'è il tema invece delle tecnologie dei contributi economici che ci vengono date ecco qua mi sento di dire una cosa anche nuova accettando un po' una sfida nel senso che molte donazioni nascono dal chiamiamolo generoso comportamento dei nostri clinici che non è che il governo le serate dove vanno a cena con chi ci mancherebbe ma sono molto attivi anche sul territorio e quindi hanno dei canali di riferimento la fondazione piuttosto che il piccolo imprenditore e li sensibilizzano rispetto a delle richieste che lui ritiene importanti nove volte su dieci sono sicuramente importanti ma altre volte se fosse stata coinvolta la direzione dell'azienda magari non avremmo preso quella tecnologia ma ne avremmo fatto altri tipi di scelte allora probabilmente qui si può collaborare meglio cioè noi possiamo rappresentare le nostre esigenze perché purtroppo le risorse sono finite vi faccio un esempio sulla tecnologia è ovvio lui che lavora in un privato molto avanzato sa quanto per rendere performante una prestazione sanitaria la tecnologia è fondamentale essere adeguati alla tecnologia come acquistiamo noi le tecnologie finora le abbiamo acquistate diciamo cosiddetti i contributi in conto capitale che sono di due tipo o un contributo dello Stato poco o della Regione per rinnovare il parco tecnologico noi il nostro parco tecnologico di nove ospedali dimensioni diverse di strutture sul territorio se dovessimo rinnovare le tecnologie secondo gli standard che seguono loro cioè loro ogni 3-4 anni un'attacca per loro è obsoleta io ho attacca degli anni 90 cioè come dire lui resta estere fatto ma è così noi dovremmo investire tra i 15 e i 20 milioni di euro all'anno di rinnovo tecnologico evidentemente dovremmo trovare altri strumenti finanziari cominciamo a dire finalmente forse non ha senso che noi acquistiamo delle tecnologie che poi sono nuove in quel momento ma sei mesi dopo cominciano a essere non più nuove figuriamoci 20 anni dopo quindi dovremmo noleggiarle dovremmo fare delle scelte tra cosa è opportuno comprare cosa è opportuno far ruotare ad alto consumo come per i computer quelle cose noi avremo bisogno di 15-20 milioni di euro all'anno a fronte di contributi che sono di 2-3 milioni quindi c'è un gap di rinnovo tecnologico mostruoso ed è uno dei problemi più seri che abbiamo nella ripartenza post-covid no? se pensate che in questo momento l'ospedale maggiore di Bologna che è l'ospedale trauma center non solo dell'area del motropolo di Bologna ma di un pezzo importante della regione dove arriva l'elicottero eccetera ha un'unica risonanza magnetica cosa che mi ha colpito quando sono arrivato ho detto ma come un ospedale così importante ha una risonanza magnetica sola che deve fare l'emergenza e l'urgenza ma deve fare anche prestazione sul programmato per i ricoverati quindi abbiamo scelto condiviso con la regione adesso finalmente riusciremo a portare a compimento che l'ospedale maggiore per la sua caratteristica deve avere due risonanze magnetiche una dedicata alla linea dell'emergenza urgenza e una dedicata al resto queste necessità hanno un valore allora io dico perché noi in maniera trasparente possiamo rappresentare al mondo delle fondazioni bancarie degli imprenditori eccetera queste sono le nostre esigenze aiutateci a interloquire con le direzioni strategiche rispetto ai nostri bisogni dopo lo spazio dell'esigenza del clinico che ha bisogno sempre di qualcosa dandoci delle priorità perché i contributi sono molto molto importanti più dialoghiamo da questo punto di vista sulla programmazione più finalizziamo meglio i tanti soldi noi riceviamo però molto spesso anche lo spirito di generosità che trovo sul territorio e l'attivismo anche dei comuni è straordinario noi dobbiamo utilizzarlo al meglio perché a volte pensando di fare una cosa positiva uno dice ti dono l'attacca in una struttura dove forse lì non deve stare faccio un esempio forte ma è così mentre ad esempio c'è più utile l'attacca in un altro tipo di ospedale ecco questa collaborazione questa sinergia può essere utile poi se a livello di una qualche modello organizzativo che semplifica il loro mondo dal punto di vista dei contatti sicuramente aiuterebbe condivido come diceva Valentina che in questo contesto territoriale con queste sensibilità qua si può fare un salto in avanti rispetto ad altri territori che invece sono più indietro sia in termini di sensibilità ma sia in termini di dialogo di sospetto tu sei di quella fondazione tu sei dell'altro eccetera ecco quindi in questo senso si potrebbe migliorare grazie tronconi invece Villa Maria si occupa molto anche di ricerca e c'è un grande capitale in questo senso penso ad esempio quello che è lampante insomma tutto il tema del cuore per dire di quanto siate all'avanguardia ecco le volevo chiedere questo capitale secondo lei è sfruttato appieno in una sinergia col pubblico intendo tutta la mole di ricerca di dati di scoperta anche scientifica che avete è valorizzata davvero al 100% o si potrebbe fare di più per mettere in relazione questi mondi due fasi una fase dove la ricerca veniva come dire è sollecitata coltivata dai professionisti nelle varie strutture del gruppo e questa disomogeneità era anche rispetto ai diversi settori disciplinari poi ci si è resi conto che poteva rappresentare un patrimonio un patrimonio per il gruppo e anche un patrimonio per il sistema culturale e formativo del nostro paese questa è la seconda fase cioè una fase che prende avvio ormai potremmo dire nel lontano 2011 e che si caratterizza per due percorsi uno come dire più sostanziale quello di dimostrare una buona capacità non voglio dire eccellente per non eccedere insomma una buona capacità erogativa una buona capacità di raccogliere e sistematizzare i dati e questo ha prodotto di per sé grandi volumi di informazione che è quello che rappresenta come dire lo strumento base per i ricercatori che vogliono pubblicare che vogliono approfondire che si vogliono confrontare nella comunità internazionale più di recente invece ha preso corpo una sorta di istituzionalizzazione della funzione di ricerca attraverso un procedimento che nel nostro paese è abbastanza articolato e anzi è stato recentissimamente ulteriormente riformato che è quello di vedere riconosciuta quella che chiamiamo un po' la nostra ammiraglia che è la struttura che è ubicata a Cotignola come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico perché faccio questo passaggio perché nel nostro paese talvolta la forma o se vorremmo dire l'istituzionalizzazione se c'è rappresenta un profilo di implicito raccordo di sistema anche con il pubblico se non c'è ti estromette attenzione ti estromette nel nostro contesto ma non nel contesto internazionale paradossalmente se noi guardiamo il consolidarsi di relazioni alla produzione scientifica nella fase antecedente l'obiettivo IRCS erano più i lavori fatti a livello internazionale con team di altri paesi che non con realtà del nostro paese cosa facilito ulteriormente e qui ritorno sempre a quel obiettivo di condivisione anche l'integrazione con gli Atenei cioè il fatto che per dare reciproco valore ai reciproci ruoli che però hanno dei punti di caduta comune soprattutto nella facoltà di medicina e nella formazione specialistica dei medici e delle altre professioni sanitarie il fatto di poter convivere e articolare le relazioni tra pubblico e privato tra istituzioni formative di attività assistenziale questo rappresenta un ulteriore valore aggiunto di sistema e aggiungo anche di competitività internazionale ci sono degli approfondimenti circa la capacità di attrarre finanziamenti ad esempio della comunità europea ma anche di ceriti statunitensi dove noi perdevamo pur essendo migliori degli altri ma perché perché mentre i contesti di ricerche di assistenza tedeschi francesi prescindevano dal pubblico privato da università istituzioni assistenziali si presentavano come sistema paese come sistema di rete quindi con dati impressionanti con capacità di trattare le più elevate complessità noi ci si presentava noi come realtà una struttura pubblica come realtà un'università come realtà e ovviamente perdavamo in un contesto competitivo dove sono altri i valori che poi vengono misurati ai fini dell'affidamento quindi da questo punto di vista ecco questo è il nostro tentativo e confidiamo che giunga a termine entro quest'anno quello di vederci riconosciuti anche istituti di ricovero carattere scientifico nel comparto specifico delle patologie cardiovascolari per poterci sedere io ritengo legittimamente al tavolo dell'istituzione di ricerca di questo di questo paese sono 52 in questo momento gli IRCS che animano la comunità scientifica con una forte integrazione ci tengo a sottolineare io sono un professor universitario ma ci tengo oltre che il gruppo Villa Maria ci tengo a sottolineare questo aspetto la forte integrazione con gli Atenei è il valore aggiunto di un sistema di ricerca soprattutto nel contesto nel contesto assistenziale e in questo il ministero della salute ha fatto un'operazione a mio avviso interessante che è stata quella di creare le reti legate alla ricerca e nelle reti si prascinde dalla natura giuridica di chi partecipa e prevale la qualità e la capacità di chi partecipa grazie allora prima di passare eventuali domande voglio fare una domanda a Valentina Marchesini perché secondo me riguarda anche molto il luogo dove siamo e la struttura dove siamo prima hai detto una parola che è restituzione allora quello che ti chiedo come imprenditrice e poi adesso a capo di una fondazione da dove nasce il desiderio di restituire come nasce la tua famiglia da tempo lo fa però non è una cosa scontata voglio dire allora non è scontato per me per la cultura che io lo è nel senso che quando tu sei stato fortunato ti viene naturale restituire quello che hai ricevuto quello sicuramente che abbiamo ricevuto noi sono state le persone credo che il patrimonio più grande che la nostra azienda ha è quello delle persone e quelle persone lì sono nate cresciute in un contesto e non è merito nostro quel contesto è merito delle scuole che noi oggi aiutiamo è merito del sistema cattolico che ha cresciuto queste persone che noi oggi aiutiamo è merito del sistema sanitario assistenziale che noi oggi aiutiamo è merito del sistema culturale che noi aiutiamo ecco credo che ci sia appunto un la cultura della restituzione viene dal viene naturale se tu hai ricevuto e ricevi tanto perché noi continuiamo ad attingere persone al territorio e quindi eh chi tanto ha avuto tanto deve restituire in qualche modo ehm mi è venuto in mente un altro dato un'altra cosa che mi piacerebbe tanto fare si parlava prima di ehm di persone che si mettono ad aiutare gli altri no? eh il volontariato purtroppo è ridotto spesso alle persone o ai pensionati o ai ragazzi molto molto giovani ci perdiamo tutta quella fascia di gente che lavora invece mi piacerebbe questo è un altro sogno poter attivare dei meccanismi di volontariato aziendale che peraltro io nella vita faccio anche eh mi occupo anche delle persone dentro l'azienda e trovo che non ci sarebbe non c'è miglior corso di formazione che portare le persone ad aiutare gli altri noi qualche piccolissima esperienza la facciamo che è quella di ehm portare un gruppo di collaboratori ogni lunedì sera ha alla mensa dell'Antoniano per cui la fondazione paga i pasti i dipendenti distribuiscono i pasti ma lo fanno alla sera sarebbe molto bello che ci fosse la possibilità ma anche qui ci vuole non può essere tutto sempre in carico all'azienda l'azienda ci potrebbe permettere il tempo ma che ci fossero delle ore durante il mese in cui le persone che lo desiderano possono mettere del loro tempo a servizio della comunità degli altri ecco questo credo sia un altro modo anche di preservare la cultura della restituzione cioè perché restituire dobbiamo continuare a farlo se vogliamo continuare a chiedere dobbiamo restituire ehm io credo anche che sia un po' forse superato il concetto di filantropia perché spesso ehm io dico sempre che non mi piace quando mi sento dire come siamo siete bravi voi come che cose bravi che belle cose fate voi perché in realtà queste sono sempre un investimento io che aiuto una scuola io che mi prendo del tempo per parlare con i genitori dei ragazzini delle medie che devono iscrivere i figli alla scuola superiore non lo faccio perché sono buona lo faccio perché faccio l'imprenditore perché il bisogno enorme che la mia azienda ha e avrà è quello di risorse specializzate investo questo tempo nel far nel nell'aiutare le famiglie ma ne torna qualcosa anche alla mia azienda quindi in realtà non è filantropia cioè il fine è sempre un investimento io ogni tanto scherzo perché dico che fuori dall'azienda non c'è scritto onlus c'è scritto spa cioè il nostro compito è quello lì è generare profitto poi il tema è come lo usi se speculi o se lo usi per far crescere la comunità ecco questo è il tentativo che proviamo a fare noi grazie allora se c'è qualche domanda prego Claudio ci ha oggettivamente affascinato con questa immagine idea prospettiva di filantropia moderna e è molto bello perché è una dimensione assolutamente innovativa della vision dell'imprenditore e la ringrazio perché ha introdotto un termine un elemento che è il terzo settore che qui al tavolo dei nostri relatori oggettivamente manca cioè abbiamo il filantropo moderno l'imprenditore illuminato si diceva una volta abbiamo il manager della sanità pubblica statale diciamo così o regionale che dir si voglia e abbiamo il rappresentante del profit cioè di una attività profit il professor Tronconi tutti molto interessanti io ringrazio tutti di quello che ci hanno detto però mi sembra che questa questione del terzo settore sia un po' un elemento che noi dobbiamo a questo punto approfondire un po' di più cosa voglio dire parlare di terzo settore forse è un brutto termine ma preferirei allargarlo al concetto culturale di sussidiarietà quando si parla di terzo settore si intende un'azione sussidiaria della società che affronta partendo dai desiderio di fare del bene lo dico in termini molto generici per un problema che esiste nella società la sussidiarietà è il secondo principio della dottrina sociale della chiesa che dice come sappiamo tutti il più grande non faccia quello che il più piccolo può fare bene allora io ho tre domande per il dottor Bordone la prima domanda è questa lui viene dal Trentino ci ha ricordato opportunamente e mi piacerebbe sapere essendo il Trentino una terra di grande presenza del cattolicesimo sociale quindi del principio di sussidiarietà che differenza ha visto in questi anni tra la sua regione di origine e Bologna seconda domanda che tipo di ruolo lei pensa di avere nel momento storico attuale e qui mi dilungo un secondo solo siamo di fronte ad una crisi del sistema sanitario inteso in termini universalistici è evidente il professor Tronconi ci ha detto un dato drammatico 40 su 120 vuol dire il 30% il sistema rischia di non essere più universalistico attenzione non riempiamoci la bocca che sia ancora universalistico quindi dottor Bordone le chiedo lei come vede il suo ruolo di playmaker decisivo in questa città da un punto di vista della sanità avendo in mano i cordoni della borsa per la stragrande maggioranza delle risorse si sente culturalmente interessato e portato ad essere il gestore come mi perdoni lei ha descritto il PDTA del diabete non basta il ruolo chiamiamolo del mentariato non è il privato no profit il privato no profit è una realtà con i CU o le buste paghe che lei dice che può fare la differenza quindi lei a Bologna qui che ruolo si immagina adesso e nel futuro colui che aiuta stimola lascia crescere il privato no profit a Bologna o lo inserisce solamente nei PDTA scusi la franchezza domande impegnative intanto la prima è Trentino io sono friulano ho lavorato quattro anni in Trentino ma rispondo molto volentieri dal punto di vista il Trentino Alto Adige come sapete è un territorio suddiviso da due province autonome molto differenti nella loro cultura sono due piccoli stati cioè io avevo la sensazione lavorando a Trento di stare in un piccolo stato a parte che l'azienda sanitaria era unica il principio di vicinanza e la forte presenza cattolica nella società c'era lo si percepiva forse il concilio di Trento perché è stato lì ha avuto un'influenza secondo me ce l'ha ancora oggi sulle scelte della società civile trentina molte similitudini rispetto al contesto bolognese molte similitudini per il fatto del valore etico quello che diceva Valentina Marchesini prima lo dico è etica cioè l'imprenditore che fa questi ragionamenti lo fa perché ha una sua etica e vuole restituire cioè queste cose erano presenti in maniera analoga la differenza è la dimensione della complessità la dimensione della complessità qui è esponenziale rispetto a quella che avevo lì nel senso che intanto qua c'è una città metropolitana in Trentino erano 550 mila abitanti la città principale Trentone ha 100 mila il resto piccole comunità orsi natura splendida piccole comunità molto simili ai temi della prossimità che abbiamo nell'Appennino io trovo gli stessi problemi quando parlo con un sindaco dell'Alto Reno piuttosto che di Loiano rispetto ai temi che avevo in Trentino la preoccupazione di non avere il medico di base le scuole recuperare gli insegnanti la lontananza da eccetera sono problemi comuni Bologna e che ruolo? Beh innanzitutto condivido una preoccupazione generale io non sono un politico sono un tecnico ma certamente sono preoccupato per il fatto che il sistema paese che oggi investe il 6.2 6.3 del proprio PIL in sanità quando sappiamo che la media degli altri paesi europei è dell'8 9% vuol dire noi abbiamo praticamente raggiunto il 7 durante la fase pandemica probabilmente era la dimensione giusta ma insomma apprezzabile rispetto all'investimento i 40 milioni di auto poche di cittadini che ci mettono del proprio poi si tratta anche di capire letteratura dice che nei contesti dove c'è più benessere non solo economico ma anche di offerta pubblica come qua c'è anche più ricorso a questo auto poche perché a me è stato insegnato quando sono venuto a Bologna ricordati che tu vieni in un contesto in cui si mangiano i tortellini in brodo ma a Bologna si mangia col brodo di cappone ed è vero è vero proprio l'ho percepito non solo come apprezzato il piatto ma nel senso che si ha la tra virgolette pretesa di una qualità del livello dei servizi questo importante cioè l'asticella è alta ed è anche dal punto di vista manageriale molto sfidante allora quella è la preoccupazione innanzitutto che il sistema paese senza affrontare politicamente il tema faccia scivolare lentamente il sistema sanitario pubblico verso un non dichiarato che è quello di privilegiare l'autopocket perché ha ragione lui quando dice non siamo siamo giocatori della stessa squadra se amministriamo le nostre risorse pubbliche ma sono i 120 miliardi gli altri 40 sono una logica in cui è fuori cioè quello che io scelgo il medico il professionista della struttura e pago direttamente o per il regime dell'assicurazione un sistema che sta crescendo è inutile innegarlo e anche demonizzarlo secondo me sarebbe sbagliato qual è il ruolo secondo me il nostro ruolo è fare sinergia innanzitutto auspicare che ci sia un allineamento delle risorse rispetto alle attese minime io mi trovo a condividere con alcuni miei colleghi che il sistema paese dopo il covid io ero per primo convinto che dopo quello che abbiamo visto alcune ristrettezze economiche non le avremo più affrontate mi ero sbagliato ma di brutto purtroppo quindi i temi economici ce li abbiamo sono acquitti diciamo dallo stress che abbiamo subito durante il covid quindi il primo auspiccio è che ci sia un allineamento rispetto almeno quei sette punti di pil dedicati alla sanità e non scivolare verso il 6 ma l'ambizione del nostro sistema paese era avere l'ambizione dei sistemi di welfare del nord Europa con le risorse del Portogallo perché noi stiamo mettendo questo le risorse del Portogallo con il sogno di una sanità del nord Europa questa le nozze con i picchi secchi non si fanno quindi un po' di realismo ci vuole probabilmente noi come sistema paese un debito pubblico enorme che non dipende da nessuno ma esiste non possiamo permetterci un sistema di welfare come quello della Svezia o di altri paesi che investono molto di più allora però abbiamo dei principi in cui credo molto si crede ancora vigente l'articolo 32 della Costituzione e la scelta di un sistema universalistico è un baluardo veramente difficile da abbandonare prima di Pasqua sono stato qualche giorno a fare un viaggio di studi mio di approfondimento delle tematiche anche dei problemi che hanno in questo momento a Londra National Service che è stato un riferimento culturale per noi per la sanità pubblica italiana che ha molto copiato anche loro sono in forte crisi e sono molto preoccupati però hanno ancora un'identità e un valore del National Service che sentono molto molto proprio ci sono scioperi hanno liste di attesa peggio delle nostre per andare dal proprio medico di base a Londra in questo momento per avere un appuntamento fisico molto infiltrato dal telefono si aspetta più di 30 giorni noi non siamo arrivati a questo livello e speriamo di non arrivarci però c'è questo sistema allora il mio auspicio è innanzitutto che ci sia un allineamento tra il sistema paese la volontà politica in generale trasversale e quanto serve ed è sostenibile nel nostro paese per mantenere la sanità l'altro aspetto riguarda il mio lavoro è l'integrazione cioè l'integrazione è col sociale perché ormai i sistemi di welfare sono moderni efficienti se dialogano con gli aspetti del sociale noi lavoriamo insieme gli istituti sociali e siamo efficaci proprio anche per la ristrettezza delle risorse se condividiamo assieme i nostri servizi non li frammentiamo tutti occupi del sociale e io sanità non dialogo con te perché è sbagliato terzo l'integrazione col privato accreditato e anche col sistema si parla del terzo pilastro dei fondi assicurativi ci sono sono una realtà la sinergia in questo va trovata se i contatti di welfare aziendale che magari c'è la Marchesini e loro offrono ai loro dipendenti un'assicurazione che li copre da spese sanitarie gli fa fare uno screening di un certo tipo perché noi dobbiamo replicarlo uguale spendendo risorse pubbliche mettiamoci assieme rispetto a queste tematiche soprattutto in una comunità come quella di Bologna ricca di servizi pubblici e private che può fare molto più sinergia allora anche in un momento di ristrettezza delle risorse la condivisione più trasparente dei programmi di sviluppo aiuterebbe molto quindi io mi auspico di lavorare il nostro lavoro io lo considero molto simile agli allenatori cioè noi lavoriamo con dei professionisti che hanno la capacità individuale come l'atleta come il calciatore o il giocatore di basket che è il campione ma deve lavorare in una squadra quindi noi dobbiamo allenare la squadra rispetto alle sfide che abbiamo le sfide sono evidenti quali sono quelle della cronicità cioè noi lasciando le spalle alla pandemia dobbiamo rioccuparci di quello che era l'agenda di lavoro prima cioè le malattie croniche il fatto è che la popolazione per fortuna vive di più vuole vivere in condizioni di salute buona e lo vive per molti anni quindi non è vero che noi usiamo io ho citato un esempio il coinvolgimento del terzo settore solo per il PDTA il terzo settore è presente in tutte le nostre attività quando noi apriamo le case della comunità della salute alla mattina a fianco abbiamo l'associazione del volontariato dei donatori di organi che fa il cupo informazioni che cioè sono è permeata la nostra organizzazione della presenza del volontariato quindi la sinergia anche lì è importante perché la crisi di vocazione sul volontariato per mille motivi qualcuno dice per il fatto che adesso si va in pensione più tardi io divento volontario più tardi ed è vero insomma è un tema che ha il rovescio della medaglia perché sono impegnato del lavoro mi occuperò dopo no? questo è un elemento il volontariato o il cittadino che ha una parte attiva ha più aspetti no? il donatore di sangue dà un contributo come donatore e molto spesso dà un contributo come cittadino che appartiene ad un'organizzazione dell'associazione di volontariato di sangue rispetto ai nostri servizi ecco noi dobbiamo fare rete tra tutti questi attori e negli attori metto l'ente locale i comuni il settore del volontariato in senso ampio la collaborazione con le aziende e le aziende importanti di questa comunità ecco i cittadini noi dobbiamo fare educazione sanitaria dobbiamo prepararci alla rivoluzione delle tecnologie ne parlavamo prima cioè il mondo che abbiamo davanti già oggi rispetto all'introduzione nei sistemi dirompente sarà l'innovazione tecnologica e noi dobbiamo cercare di usarne il buono di queste opportunità come alleati ecco quindi lavorare sull'innovazione anche io sono nella mia organizzazione sono anche direttore di un IRCS le scienze neurologiche del Bellaria so bene che investire in ricerca qualifica eleva il nostro livello di servizi noi dobbiamo garantire le opportunità ai nostri professionisti che venire a lavorare a Bologna è la scelta migliore che possono fare rispetto all'opportunità di lavorare in un sistema pubblico poi se scelgono di andare a lavorare nel privato benissimo noi dobbiamo sviluppare le collaborazioni col privato sempre più in maniera proattiva per cui condividere la programmazione e dire se io sviluppo questo tipo di settore ti chiederei di svilupparne un altro il tema della cronicità e la carenza che abbiamo e chiudo a Bologna ad esempio rispetto alla mancanza di letti di cure intermedie noi abbiamo un'offerta ricca di ospedali per acuti e abbiamo una carenza di letti di cure intermedie perché con quel setting giusto per collocare quelle persone in transizione dall'ospedale verso il domicilio non ancora pronte autonome per stare a casa propria che oggi non è che non ci sono ci sono ma sono ospitati in maniera inappropriata nei nostri ospedali per acuti con i costi dell'ospedale per acuti quindi il lavoro da fare è tanto la comunità è ricca di stimoli di opportunità e quindi dobbiamo sfruttare questa energia positiva e la difficoltà è orientarla nel senso di marcia corretto perché le fughe laterali ci sono e noi dobbiamo cercare di spingere questa energia in maniera equalizzata grazie raccogliamo queste due domande e poi direi che ci avviamo verso la conclusione collaborazione fra sanità pubblica e privata per quale motivo il fascicolo sanitario non viene incrementato dalle prestazioni della sanità privata si si asoltiamo anche l'altra domanda la risposta la dovrebbe dare la politica mi sento di dire ma poi faccio andare comunque a bordone e mi avete sentito ripeto mi chiamo Bruna Bellotti rappresento un'associazione di volontariato puro ci tengo a sottolineare l'aggettivo perché c'è tanto volontariato spurio cioè che sono convenzionati con l'azienda USL quindi se permettete c'è un bel po' di differenza si qualificano volontariati quando in realtà hanno dei contributi dall'azienda questo che cosa comporta? comporta che quelle associazioni di pseudo volontariato si autocensurano nel senso che io sono addittata per il fatto che segnalo le inefficienze gli abusi e quant'altro che c'è purtroppo presente nell'azienda USL ecco il dottor Bordone ha fatto un piccolo cenno alla salute mentale bene è il settore del quale io mi occupo da oltre 40 anni posso dire purtroppo che nell'ambito della salute mentale è stato direi quasi totalmente esternalizzato il servizio tranne che i CSM però è poca cosa per il fatto che le strutture residenziali psichiatriche cosa succede? Paravata concludiamo la domanda mi sentite ugualmente? ecco sono state esternalizzate questo che cosa comporta? comporta che le strutture sono gestite prevalentemente da cooperative o anche altre strutture altre gestioni similare col risultato che il malato viene cronicizzato non esiste l'espressione recovery un mi quindi ci riduttiamo con dei malati che sono ridotti come gli anziani affetti da Alzheimer quindi è un peso è una palla al piede alla collettività oltre che dal punto di vista umano che questo all'estate mi interessare ma mi interessa come viene mal speso il denaro pubblico qui il dottor Bordon ha appunto indicato la sticella della qualità ma nei servizi mentali la sticella della qualità non esiste proprio ecco quindi qui si chiede più denaro bene abbiamo bisogno di personale qualificato che venga costantemente monitorato che ci devono essere le supervisioni niente di tutto questo allora io prima di tutto come contribuente sto male che il mio costo di denaro sia così mal speso quindi come si intende qualificare il servizio della salute mentale quando esternalizzato non esiste il controllo e posso documentarlo io ho scritto montagne di risposte facciamo rispondere Bordon signora così le danno risposta non ho mai avuto risposta la ringrazio di essere venuto e seguiranno scritte mie grazie moltissimo a tutti coloro che mi hanno ascoltato allora se ci sono altre domande altrimenti mi sa che tocca a Bordon rispondere onori oneri dei laboratori hai avuto molto di peggio dai sì sì allora la prima il fascicolo sanitario allora innanzitutto in Italia abbiamo 20 fascicoli sanitari elettronici stamattina ero ad Ancona per una testimonianza la regione Marche ha un fascicolo sanitario nominale nel senso che uno scarica l'app ma non c'è niente dentro cioè non si carica neanche le vaccinazioni non ci credevo l'ho visto allora questo è un problema serio fortunatamente mi sento di dire con un certo ottimismo è stato costituito da un anno e mezzo quindi c'era un vecchio governo ce n'è uno nuovo quindi è trasversale questo tema va affrontato a livello nazionale anche nei sistemi più avanzati come l'Emilia-Romagna che ha un suo fascicolo sanitario buono il tema è che se un cittadino va in Lombardia va nel Veneto non si legge questo patrimonio di informazioni deve essere o stampato non dialogano non dialogano allora il tema dell'interoperabilità del fascicolo verrà affrontato in maniera seria ci sono delle risorse importanti che sono state investite a livello nazionale e arriveremo a un fascicolo sanitario unico credo in tempi molto più rapidi so che è difficile credere dopo aver visto queste esperienze i 20 fascicoli sanitari che oggi esistono sarà un tema che un paradigma su cui ruoterà anche tutta la parte della telemedicina quindi il sistema di sanità sarà digitalizzato per fortuna partiamo da dei punti più avanzati da altri più retrati ma la carta all'interno dei nostri reparti non potrà più circolare perché se circola la carta le informazioni non vanno nel fascicolo quindi per forza il sistema spingerà lì e senza queste informazioni non si può fare telemedicina non si possono fare mille altre cose quindi anche il dialogo del privato delle prestazioni deve finire assolutamente lì perché si tratta noi siamo pro il nostro gruppo è pronto basta che ci dicano dove sono state definite le caratteristiche di dialogo per farlo arrivare arrivo alla domanda o meglio alla segnalazione sulla salute mentale allora non mi sento di condividere a pieno dopodiché è ovvio che noi queste cose che lei mi dice faremo verificheremo e quant'altro in realtà il sistema della salute mentale è pubblico come regia e come servizi il coinvolgimento di cooperative con lo strumento del cosiddetto del budget di salute cioè si fa un piano di recupero di una persona in cui intervengono mille attori certo c'è lo psichiatra ci sono i tecnici nostri riabilitativi ma c'è anche il privato sociale c'è la famiglia ci sono altri attori in un piano di recupero e di cura immaginare che tutto il sistema sulla salute mentale possa essere esclusivamente pubblico e non solo velettario ma forse è dimostrato da molta letteratura sul tema psichiatrico poi qua in questa realtà ha prodotto dei responsabili della psichiatria che sono dei riferimenti nazionali il dottor Fioritti che è recentemente andato in pensione è un nome a livello di psichiatria nazionale internazionale quindi ci saranno delle cose che vanno migliorate ma noi sosteniamo dei settori con il privato sociale che ha dei requisiti degli standard di accreditamento per il recupero o la presa in carico di alcune persone ovvio che ci deve essere il controllo e la regia se non c'è il controllo rispetto a quello che do allora le cose non vanno bene cioè noi laddove affidiamo un piano di recupero integrato con altri attori chi lo affida deve monitorare se queste prestazioni vengono eseguite e qual è l'esito però se ha delle segnalazioni ce le faccio avere e le verificheremo allora una replica del professor Tronconi sì volevo dare un contributo integrativo di lettura il più razionale possibile come ha detto Bordona ha riportato un dato guardate che ha connotati di drammaticità sotto un certo profilo cioè il fatto che il Fondo Sanitario Nazionale abbia un tendenziale al 6,2% del PIL ci fa regredire in termini di disponibilità di finanza pubblica a sostegno del sistema sanitario che è francamente terribile e che produce tutta una serie di effetti purtroppo si accompagna il DEF al 2025 pone il 6,2% tra l'altro in un contesto previsionale sono tecnicismi ma rilevano in termini macro di economia con un tendenziale regressivo rispetto alla grande crescita quindi il 6,2% è su un montante assoluto di produzione del nostro paese quindi in termini assoluti si riduce e dall'altro quel dato dei circa 40 miliardi di out of pocket si connota per tante voci chi il secondo chi il terzo pilastro ma il senso qual è? che c'è una fetta cosiddetto intermediata cioè chiunque di noi può andare in una compagnia assicurativa e accendere una polizza che è fattore implicito di disuguaglianza perché è un fattore discriminante la capacità economica di remunerare la polizza e di questo dobbiamo tenere conto il secondo aspetto è il dato e la tipologia occupazionale si è fatto riferimento al welfare aziendale ma è lasciato come dire alle buone intenzioni dell'imprenditore utilizzare o meno uno strumento di questo tipo si è affacciato da qualche anno io devo dire dal mio punto di vista grazie anche alla lungimiranza di organizzazioni sindacali del nostro paese il fatto di prevedere nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro un'alimentazione di fondi a protezione prospettica dei lavoratori e poi c'è una componente che comunque mantiene una sua rilevanza che è quella cosiddetta cash ognuno di noi mette mano al proprio portafoglio però che cosa è successo che i primi tre strumenti sono generatori di disuguaglianza se non governati questo è il tema centrale se non governati perché il quarto fattore ha come determinante due aspetti la capacità economica di sostenerlo qui gli analisti più cinici dicono ah ma in Italia come dire vi è una popolazione dedita molto al risparmio quindi implicitamente può attingere la riserve mi sembra un approccio un po' cinico sotto un certo profilo il secondo aspetto è il dato inflazionistico che incide sulla capacità immediata diretta dei nuclei familiari di poter attingere a risorse fresche allora le proiezioni cosa dicono che mentre si era consolidato negli anni un dato oscillava di poco me lo ricordo perché era 899 dollari perché sono analisi che vengono fatte in dollari era la propensione dei cittadini italiani e i familiari a mettere in mano alle proprie riserve o alla propria capacità economica immediata per affrontare una spesa sanitaria questo fattore si sta riducendo si sta riducendo per la semplice ragione che si sta riducendo la capacità di disponibilità immediata delle famiglie e sta incidendo il dato dell'inflazione che ovviamente erode la capacità di spesa allora capite che ci troviamo in una situazione che a mio avviso è assolutamente meritevole di portarci ad essere un paese maturo risottolineo spogliandoci di presudiziali nell'ambito del welfare per cercare di allocare al meglio le risorse e allocare al meglio le risorse vuol dire non approcciarsi pregiudizialmente con il secondo pilastro nelle sue declinazioni e magari destinare questo tipo di impiego a coloro che se lo possono permettere liberando risorse pubbliche per garantire uguaglianza a chi non se lo può permettere questo mi avviso è il tema che si deve porre alla politica e che penso personalmente che non possa che trovare una condivisione trasversale grazie grazie mille per le solicitazioni grazie a Valentina Marchesini a Paolo Bordon e a Livio Tronconi e a voi per l'attenzione e al centro San Domenico per la serata grazie grazie a tutti grazie a tutti